Nella sede CNA di Matera un seminario dedicato alla sostenibilità energetica per il settore artigianale. Si è discusso di investimenti, opportunità e strategie europee, inclusi gli incentivi per i sistemi fotovoltaici e l'impatto delle dinamiche geopolitiche internazionali sul settore. Il workshop ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento degli stakeholders e la necessità di un dialogo aperto su questi temi. Abbiamo introdotto delle innovazioni sia a livello tecnologico che finanziario per rendere sostenibile qualsiasi tipo di intervento. Quindi a livello tecnologico abbiamo introdotto già sistemi che utilizzano intelligenza artificiale per bilanciare e gestire i flussi energetici all'interno dell'azienda anche in funzione di interventi che producono energia, quindi anche il fotovoltaico andiamo a gestire i flussi energetici in funzione anche di quello che produce l'impianto e in funzione anche di quelli che sono gli ordini di produzione aziendali. A livello finanziario abbiamo strutturato delle soluzioni ad hoc che abbracciano e si vengono create su misura per qualsiasi tipo di azienda che rendono l'intervento sostenibile in qualsiasi settore. L'energia fino a qualche tempo fa era un costo che non presentava un valore significativo nei bilanci aziendali. A partire dallo scoppio della guerra russo-ucraina l'energia ha pesato sempre più in maniera evidente all'interno dei bilanci e quindi è oggi assolutamente necessario per qualsiasi tipo di azienda. Ci siamo resi conto che il costo dell'energia appunto non è più un valore trascurabile che incide pesantemente sui bilanci aziendali. Noi come CNA continuiamo la nostra azione che è fondamentalmente un'azione di sensibilizzazione, di informazione su questi temi, contando anche sull'apporto di professionisti che siano poi in grado di misurare le risposte che le aziende si aspettano.